Non mi sfuggirà, lo prometto! Grazie, Sebastian. Finalmente libero dalla sua voce. Dalle mie paure. Ero così spaventato. Tu... tu devi fermarlo. Non posso fermarlo, se non so dove si trova Unil. Lui ha rimodulato... la sua fase. Non è più qui. Il macchinario in quella stanza... devi distruggerlo. Quale macchinario? Me l'ha fatto costruire... per nascondersi. Distruggilo. Così distruggerai lui. Che è successo? Cos'ha trasformato Unil in un mostro? Non lo so. Sono rimasta tutto il tempo nel mio rifugio. Quando Liam mi ha chiamato per incontrarci, ero felice di sentire la sua voce. Ma non era Liam. Era quel... mostro. Ho cercato di farlo tornare insieme, ma... l'hai sentito? Theodore Wallace gli ha fatto qualcosa. Poveraccio. Non volevo ucciderlo. Non avevi scelta. Theodore non l'avrebbe mai lasciato andare. Ora che facciamo? Diamo un'occhiata al macchinario di cui parlava Unil. Credo che sia dall'altra parte della stanza in cui ci hai trovato. Andiamo.